A Settingiano il venerdì santo si svolge la pighiata, cioè la cattura, con riferimento all'episodio del Getsemani, un'azione teatrale mobile ispirata alla passione di Cristo che viene rappresentata a cadenza ciclica ogni dieci anni. Gli spettatori assistono alla rappresentazione seguendo lo spostamento da un luogo all'altro del paese dei personaggi interpretati da abitanti del luogo.